La ricetta di oggi è la torta di mele Fuji profumata alla cannella con yogurt greco e miele d'acacia. Per prima cosa ho montato le uova intere con il zucchero semolato. Una volta montato il composto vi ho aggiunto il miele d'acacia. Ho aggiunto la farina e la fecola di patate, precedentemente sitacciate, alla cannella e al lievito in polvere e ho continuato a mescolare delicatamente dal basso verso l'alto. Ho aggiunto poi lo yogurt greco e il latte. Ho lavato, sbucciato e tolto il tossolo alle mele e ho ricavato dei cubetti di circa un centimetro. Li ho spolverati con biscotti sbiciolati e li ho aggiunti all'impasto. Ho posto l'impasto in una tortiera precedentemente imburrata e ho cotto a forno prescaldato a 170 gradi per 45 minuti. Una volta cotta la torta, l'ho tolta dal forno, l'ho lasciata intipidire e l'ho sformata spolverandola con dello zucchero a velo. Grazie per la visione!